Il nostro futuro comune, se non agiamo adesso. Grazie. Ultimo intervento, onorevole Toia. Questo Consiglio entrerà sicuramente nella storia europea, perché ha imboccato la giusta direzione per il nostro futuro. Si è scelta l'unità dell'Europa, si è scelta la solidarietà tra gli Stati, si è scelta la responsabilità di affrontare insieme, con strumenti comuni, non solo la crisi economica, ma anche i problemi della vita dei cittadini, il lavoro, la salute, rivelando finalmente anche l'anima sociale dell'Europa. Si è capito infine che se cade un Paese, prima o poi tutti possono cadere. E devo dire che i nazionalisti e populisti, anche nel mio Paese, l'Italia, dove credono di essere ancora forti, non hanno argomenti in questo momento nella loro battaglia contro l'Europa. Ma tanto è grande l'apprezzamento per questo risultato, tanto è forte, devo dire, la delusione, e anche il rifiuto per quanto mi riguarda, ma non solo me, tante voci si sono levate qui, per un QFP non coerente, contraddittorio e forse dannoso per gli obiettivi che Recovery propone. Io proprio non capisco, non si può tagliare cultura, istruzione, ricerca, lo dico a Presidente Michel che non c'è, ma chi ascolta per lui, non si può tagliare la ricerca. Vi ricordo che abbiamo passato gli ultimi mesi a pendere dalle labbra di scienziati, medici, ricercatori, per capire come comportarci, come sopravvivere. E anche oggi il nostro futuro, la nostra vita, l'economia, dipende dalle scelte, dalle decisioni, dagli esiti delle ricerche in corso per quanto riguarda vaccini e farmaci, eccetera. E abbiamo elogiato tutti insieme gli operatori sanitari, i ricercatori, che anche con strutture inadeguate, con stipendi non adeguati, hanno portato avanti, dicevamo eroicamente, il loro lavoro. Ecco, non possiamo fermarci ora, un QFP insufficiente. Presidente, lei che tanto ha lavorato, anche se non è oggi stato tanto ringraziato per questo risultato, sono certa che si farà carico, a nome di questo Parlamento, anche del risultato migliore per il QFP.